La nostra attività nasce nel 1948 ed esattamente proprio qui in via Capuccini nella sede dove ci troviamo adesso. L'attività venne aperta da mio nonno che appunto era tapeziere materassaio e in quegli anni veniva profugo a Gorizia dall'isola di Brioni dove lavorava come tapeziere nei grandi alberghi di Brioni dove poi conobbe mia nonna e nacque anche mio papà però con la guerra appunto dovettero lasciare l'isola e vennero qui a Gorizia. Iniziò come artigiano, all'epoca si facevano tantissimi materassi in lana perché non esistevano appunto materassi in lattice e quant'altro e faceva restauro anche di poltrone, sedie, divani eccetera. Mio papà è entrato nell'attività condividendo con mio nonno la passione per la tapezzeria continuando l'attività di mio nonno acquisendo però anche delle cose nuove tipo oltre la tapezzeria ha inserito anche magari il tendaggio anche perché ha avuto la fortuna che mia mamma era una sarta di conseguenza insieme hanno fatto un binomio perfetto e tuttora continuiamo a dare gli stessi servizi alla nostra clientela mantenendo le stesse tecniche di lavoro che venivano usate all'epoca del pezzo che è fondamentale e quindi lavorando anche con materiali tipo le crine che non si usano più nella tapezzeria moderna ma che nella tapezzeria d'epoca venivano usati appunto questi materiali naturali e quindi il restauro è una parte importante del nostro lavoro. Con gli anni siamo subentrate noi tre figlie forse ce l'abbiamo nel DNA non lo so fatto sta che tutte e tre siamo state ben contente comunque pur avendo provato altre esperienze ma di rimanere poi nell'attività familiare che portiamo avanti e che anzi negli anni abbiamo anche un po' ampliato diciamo adeguandoci alla richiesta del mercato e del cliente perché oltre al servizio appunto che facciamo di tapezzeria e tendaggi abbiamo ampliato il punto vendita di questa sede storica dove abbiamo poi integrato anche degli articoli di complemento d'arredo che possono essere non so la biancheria per la casa qualcosa di oggettistica, i plaid piuttosto che il cuscino per il divano e quindi diciamo completando un pochino la scelta e l'offerta che possiamo dare al cliente finale quando consegniamo un lavoro ad un cliente in questo lavoro c'è una parte di noi e per noi è una felicità vedere il cliente soddisfatto e contento del lavoro, del restauro eseguito magari perché è un pezzo affettivo che ritorna a vivere ed è una cosa bellissima siamo le sorelle pavesi orgogliose di essere artigiane